Il governo italiano assassino, così va definito. Il comportamento scelerato di questo governo Meloni con il suo ministro delle imprese Adolfo Urso. 680 milioni di euro stanziati per acciaierie d'Italia, Exilva, e la introduzione dello scudo penale della immunità a favore dei gestori di questo stabilimento assassino. Un provvedimento davvero criminale. Ma d'altronde non è una novità. Centrodestra e centrosinistra sono la stessa cosa. Questi provvedimenti assassini furono anche partoriti in passato dai precedenti governi. Penso per esempio al governo Conte, penso al governo Monti prima ancora e successivamente il governo Draghi. Centrosinistra e centrodestra sono due facce di una stessa medaglia criminale assassina che ha condannato a morte Taranto perché non si possono stanziare 680 milioni di euro. Significa buttare soldi per una fabbrica che sta letteralmente collassando, che uccide come più di prima e che non paga neanche i dipendenti considerando le casse integrazioni e quindi una riduzione dello stipendio, considerando gli stipendi, considerando le ditte dell'indotto che non beccano un quattrino e quindi relativi dipendenti. Ma la cosa più assurda è introdurre l'immunità penale per i gestori di Acciaierie d'Italia. Quindi ci riferiamo a Ilva in AS e ci riferiamo ad Acciaierie d'Italia. Assurdo! Sapete cosa significa? Che chi gestisce può fare i cazzi propri, può condannare a morte Taranto e i Tarantini, ha licenza di uccidere e alla fine passa impunito perché sono immuni, c'è l'immunità, un provvedimento assolutamente antidemocratico e anticostituzionale. E non facesse il verginello politico il sindaco di Taranto Melucci o il presidente della regione Emiliano, il presidente della regione Emiliano che disse mi sento a casa mia, riferendosi ad Arcelor Mittal. E Melucci, Melucci è colui il quale fa parte del PD, del partito dei decreti, Salva Ilva, Melucci è quello che stava a braccetto, ci sono le foto con i Mittal. Melucci è colui il quale non ha fatto ordinanze di chiusura per chiudere questo maledetto stabilimento, non le ha fatte, fece solo un'intimazione che fu all'acqua di rose, come si suol dire. E ora Melucci si vuole fare bello, vuole fare il paraculo politico davanti ai Tarantini e davanti ai dipendenti. E mi riferisco anche a voi, signori sindacalisti, mi riferisco alla Fim Fiume Wilm, voi che siete stati dalla parte dei padroni, non dalla parte dei lavoratori, ora cosa fate? C'è un processo ambiente svenduto che la dice tutta su quello che accadeva in quello stabilimento, ora cosa fate? Volete rifarvi una virginità andando ad attaccare il governo, quello andando ad attaccare la governance di Acciaierie d'Italia, ma andate a prendere per culo qualcun altro. Io l'11 gennaio, nella manifestazione nazionale, nello sciopero nazionale, sarò a Roma e avrò da dire la mia a tutti, a certi sindacati, al sindaco Melucci, alle altre forze politiche, anche ai parlamentari. Perché Taranto si deve ribellare. Io da consigliere comunale, con 4.200 cittadini che hanno riposto la fiducia in me, devo rappresentare questa gente, devo rappresentare, ho il dovere morale di rappresentare una città che vuole vivere e che non può e non deve essere condannata a morte da decreti assassini, da decreti salvailva, criminali, assassini, così andate definiti. E aspetto di essere querelato, lo aspetto in grade, chissà perché non arrivano queste querele. Ma l'11 gennaio ce la dichiareremo, sempre a Roma, sempre civilmente e democraticamente. Grazie a tutti.